insomma mariuccio me lo fa un caffèino caffèino in arrivo a me via mi gira le palle oggi guarda ma te se ve l'ha fatto il da vinci a firenze no è un sono di firenze sono di prato però beh l'hai detto un pa di volte mi sembra di ricordare però mi garba firenze che c'è sempre è una bella città no non ci sono stato diverse volte e ti allora è film di pieraccioni in docene ceccherini un attimo tralasciando attori come roberto benigni paolo villaggio io penso che a firenze abbiate molti attori in gamba ecco poi paolo villaggio di cinema non di firenze signora fletcher mi perdoni un attimo lei ha visto i film del pieraccioni o di paolo villaggio no perché sennò qui lei fa la saputella non diciamo fesserie signora fletcher è fuggata per edward quello di twilight quanto è buono eh per me voi la sera ai bombardier vi fumate troppi spinelli io ve lo dico vi garantisco che di comici ottimi ci sono il bold e desideri no guarda e suggerire i film a me fa cari io ve lo dico subito a me non piacciono assolutamente sono tutti film fatti per guadagnare soldi il giorno di natale una coppiettina che va a vederseli ogni volta e poi e poi un modo come l'altro per fare il figlio del cine panettone insomma dai oh mio dio ma chi fa un bel panettone il panettone ma siamo a novembre ma poi no quelli piccini della copp non mi dica che li hai comprati ma secondo te io tutte le mattine carico la mia peugeot di panettone copp